voilà carletto ti è finito il culetto che rumba che rumba don carlo che rumba e guardiolino ti ha messo nel sacco guardiolino come dice sempre il mio amico predato sono cazzi amico e in finale sono cazzi ai prescritti lì e lì non c'è culo che tenga con quelli là i ragazzi sono alieni hanno preso l'unica cosa che gli mancava quest'anno il bomber si aveva una squadra sempre fortissima il manchester però mancava proprio la ciliegina sulla torta adesso sono al completo quelli i ragazzi non hanno punti deboli e quelli non hanno punti deboli mamma mia che squadrone ragazzi quando spendi quando spendi e hai un allenatore è giusto che vinci è giusto che vinci i risultati i risultati e quando spendi arrivano ecco è così ragazzi è così ragazzi loro investono 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 hanno 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 mancato sempre l'accempio perché hanno mancato sempre l'accempio in questi anni o per un motivo per l'altro stavolta stavolta ci arrivano stavolta c'è io avevo pronosticato il bayern quest'anno invece avevano ragione credo che abbiano ragione e gli altri che dicevano manchester city se non lo vince quest'anno il manchester city non vince più non la vince più perché quest'anno sono troppo 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 più forti degli altri quest'anno vincono tutto campione scudetto premier lì e coppa e quelli li fanno la tripletta quelli che sono ragazzi sono sono degli alieni delle bestie è così adesso sono proprio curioso di vedervi alla prova perché adesso a voi a voi prescritti toccherà quello che è toccato a noi una buonissima squadra come eravamo noi una buonissima squadra però quando ti vai a giocare le finali contro quei colossi ragazzi o devi vedere proprio la partita che ti gira tutto bene devi avere il colpo di culo magari anche l'arbitro dalla tua parte se no con quelle squadre lì non la sbagli ricordate la prima col barcelona lì eravamo penso che avevamo un difesa supersonica e basali buonucicchilini giovani buffon e obbavi dal pirlo marchisio e lì steiner davanti lì tevez morata avevamo l'ira di dio però loro avevano quello in più quello in più quella parte messi la davanti loro avevano qui tre messi su ares nei mare quelli erano erano di più di più è inutile ragazzi poi si rigore su bomba datemi il rigore andiamo sul da uno noi poi si vede si vede però loro avevano poi coreal madrid e sappiamo benissimo cosa è successo perché coreal madrid non si sa ancora cosa è successo in quella tra il primo e secondo tempo perché manzuki ce l'ha detto manzuki ce l'ha detto che hanno litigato pare tra bonucci e daniel alves si sono addirittura messi le mani le mani le mani addosso e anche lì avevano ronaldo in più quelli da poi loro avevano la panchina quando ti vai a giocare le finali che tu hai in panchina sturare o elimina e loro si girano e vedono tawny cross asensio e siamo perdoni anche non mi ricordo la panchina la panchina bay che cazzo vuoi dire che cazzo è sì eravamo fortissimi ma loro lo erano di più secondo me poi l'allenatore fa il resto perché noi abbiamo il solito cagò in panchina perché quando tu vai nelle conferenze stampa a sky a dire è ma loro si sono difesi meglio no non è vero un cazzo che si sono difesi meglio loro hanno avuto di più i coglioni loro hanno attaccato di più hanno attaccato meglio noi invece abbiamo fatto cagare nel secondo tempo cazzo non dire sempre puttanate per tirare sempre sempre la ragione della tua parte stupido cagon di un cagon di un cagon di allenatore cagon del cazzo cadiamo sempre in quelli allenatori di merda perché noi abbiamo un allenatore di merda e io sono convinto che se in panchina avevamo un altro allenatore con quella squadra lì una champion ce la portavamo a casa una arrivava a torino una noi purtroppo viviamo un cagon in panchina è inutile che l'hanno sfanculato tutti questo allenatore qua lo hanno sfanculato tutti tutti più forti lo hanno mandato fare in culo ecco comunque complimenti a guardiola complimenti al city è giusto così è giusto così perché anche anche vedere sempre finale real madride che basta anche stufato ed è giusto che anche loro vadano fuori dai coglioni perché loro hanno vinto anche troppo rubando in europa hanno vinto anche troppo rubando e forza guardiola forza guardiola perché questa sera tenevo per te lasciamo perdere la schifezza di quel di società le puttanate che ha fatto il manchester city perché nessuno è santo nessuno è santo nel calcio ricordatevelo bene nessuno è santo però piuttosto di vedere ancelotti alzando la sempre preferisco guardiola preferisco guardiola l'unico che non vorrei mai vedere alzare la coppa il psg questo ve lo dico ve lo dico con tutto il cuore l'unica squadra che non vorrei mai vedere alzare la champion e non l'alzeranno mai è il psg con questo vi saluto ciao a tutti belli brutti un bacione da michelone perché michelone come dico sempre vuole bene a tutti iscrivetevi al canale fate iscrivervi a tutti quanti amici e come dico sempre ragazzi ciao a tutti buona ciao 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 ciao